Ben ritrovati a tutti, mi chiamo Alessio Barbonaglia, sono coach in opzioni e in commodity spread trading. Oggi sono qui per portarvi una nuova strategia operativa in commodity spread sul mercato delle carni bovine. Mi riallaccio a un video che ho già fatto in precedenza in cui vi avevo già portato il mercato delle carni bovine che è composto dai bovini giovani i feeder cattle e i bovini adulti life cattle. Bovini giovani che prima di diventare adulti vengono allevati per un periodo di circa 6 mesi e vengono alimentati principalmente con il mais. Mais che non solo ha quotazioni basse ma che è anche caratterizzato da aspettative fondamentali ribassiste. E' quindi evidente che con un prezzo di mangimi basso è assolutamente conveniente l'allevamento. E quindi se nel video precedente avevamo posto l'accento su come sfruttare la forza di feeder cattle, in questo video andiamo a guardare l'altra faccia della medaglia, ovvero sfruttare la debolezza dei life cattle. In questo momento ci sono degli spread a due gambe sul mercato del life cattle che hanno una stagionalità ribassista e quindi in linea con il contesto di mercato, ma sono spread che hanno delle quotazioni basse e sappiamo che sfruttare qualcosa che ha già prezzi bassi non è statisticamente conveniente. Ci vengono però in aiuto gli spread multi lag e in particolare la butterfly, quindi ci spostiamo subito su Alpha4Charts per portarvi la strategia di oggi, ovvero sfruttare la butterfly che vedete qui davanti, ovvero andare a sfruttare la scadenza di dicembre del 2020, andare a comprare un numero doppio di futures con scadenza febbraio del 2021 e sfruttare la scadenza di aprile del 2021. L'idea operativa è ovviamente quella di sfruttare questa stagionalità ribassista molto robusta che parte dalla fine di agosto e che è ben rappresentata sia dalla media 5 anni in giallo, sia dalla media con colore un po' più scuro che rappresenta gli ultimi 15 anni. Ora non c'è un vero e proprio segnale di analisi tecnica, l'RSI è ancora basso e inoltre nelle prossime settimane abbiamo una stagionalità soprattutto se consideriamo gli ultimi 15 anni tendenzialmente laterale. Quindi considerato che ci avviciniamo a un periodo estivo caratterizzato da pochi volumi, spesso e volentieri anche da scatti abbastanza forti sia sugli spray da due gambe ma anche sui multileg, l'idea operativa è quella di aspettare un eventuale scatto rialzista di questa butterfly multileg, tentare di vedere se avremo un segnale tecnico e quindi un RSI un po' più verso i 70-80 e cercare di vendere questa butterfly a prezzi superiori diciamo più intorno agli 0 per poi andare a cavalcare appunto la stagionalità ribassista. Proprio su questa stagionalità voglio spendere ancora due parole perché qui ho tracciato sempre sul nostro Alfa Forciazzo una stagionalità che parte appunto dal primo di settembre e diciamo finisce o meglio l'ho fatta terminare al primo novembre senza stare qua a ottimizzare i punti di ingresso e di uscita perché ha poco senso ottimizzare i dati passati ma il mio obiettivo era quello di verificare la robustezza di questa butterfly. Per questo ci spostiamo subito sulla funzione calculator di Alfa Forciazzo perché quello che vi volevo fare vedere è che se consideriamo gli ultimi 5 anni e quindi entrando il short il primo di settembre e chiudendo l'operazione il primo novembre abbiamo un 100% di profittabilità negli ultimi 5 anni che ci fa assolutamente piacere ma l'altra cosa che vorrei fare notare è che abbiamo una massima escursione negativa pari a 292 dollari che è assolutamente contenuta visto e considerato che stiamo operando sul mercato delle carni ma soprattutto abbiamo una massima escursione positiva noi favorevole di 866. Inoltre c'è un buon rapporto di rischio rendimento perché tra l'escursione favorevole e quella sfavorevole diciamo che c'è un rapporto di 1-3 quindi ottimo rapporto di rischio rendimento per questa strategia. Se facciamo la stessa analisi sui 15 anni anche qui direi che abbiamo indicazioni tutto sommato molto buone perché comunque abbiamo sempre una massima escursione noi negativa abbastanza contenuta una massima escursione che anche qui è in rapporto di circa 1-2,5 quindi anche qui ottimo rapporto di rischio rendimento sulla strategia. Abbiamo una profittabilità che scende dall'80% ma la cosa che più vi volevo fare notare è che anche negli anni in cui lo spread è stato chiuso in perdita abbiamo comunque dei loss diciamo al termine dell'operazione che sono veramente contenuti tenuto conto che parliamo di un mercato che è caratterizzato sempre sostanzialmente da pochi volumi, un'elevata volatilità e ricordo a tutti che sul mercato di Life Cattle un punto vale 400 dollari quindi escursioni negative veramente contenute. Anche per oggi è tutto io vi ringrazio dell'attenzione vi ricordo che è sempre possibile prenotare una sessione individuale registrata con me per farlo basta cliccare il link qui sotto in descrizione al video. Io ringrazio tutti per l'attenzione vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!